Il team, questi sono due scimmietri che si abbracciano, questo è un consiglio che ci ha dato un tipo che si chiama Vito Lomene, che è il fondatore di JobRapido.it, un soggetto assurdo, sentieri una macchina che fattura decine di milioni di Euro e nella formazione del team aveva lavorato tantissimo, di nuovo anche il tema legato agli investitori, perché è importante il team? Voi dovete immaginare che se dovete mettere in piedi un qualche cosa di vostro, almeno per due anni non penserete ad altro e vivrete in simbiosi con le persone con cui avete creato la vostra idea e la vostra impresa. Quindi Vito Lomene dice, cercate delle persone che vi assomigliano il più possibile, come scala di valori, come abitudini, come tutto. Se vedete che già dall'inizio c'è qualche incomprensione, ma proprio su cose anche banali, siate certi che a un certo punto sta cosa esplode e voi avrete dei grossi problemi, quindi è proprio una questione di pelle indipendentemente dalle competenze. Tra l'altro è molto più importante qualcuno che impara in fretta piuttosto che qualcuno che sa già fare tante cose. Questa è una mia opinione.